In 28.000 hanno assistito al tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto in Prato della Valle a Padova una serata di musica impreziosita dallo spettacolo di luci e suoni che hanno lasciato tutta con il naso all'insù tutto esaurito nella grande piazza padovana dopo una giornata che ha visto presenze importanti di turisti che hanno visitato i musei e i siti di interesse della città imponente la macchina dei controlli per l'accesso a Prato della Valle che non hanno però creato disagi nei molti che hanno voluto festeggiare così il 15 agosto uno spettacolo che anche quest'anno come nelle precedenti edizioni ha avuto il pregio di un grande impatto scenico ma con un'attenzione anche rispetto agli animali domestici quindi con l'esclusione dei voti delle deflagrazioni in cielo più impattanti un evento riuscito che quindi dà ancora una volta il senso di una città di grande vitalità che riesce a offrire un palinsesto sia di iniziative culturali che di intrattenimento a beneficio dei cittadini di Padova, tutti quelli che questo Ferragosto sono rimasti in città ma anche i tanti cittadini del resto della provincia o del Veneto che in questa occasione sono soliti venire a Padova e noi li aspettiamo sempre a braccia aperte e anche i turisti che vengono da più distante che fortunatamente anche grazie alle nostre politiche di marketing territoriale all'interno delle quali ci sono anche grandi eventi come questo scelgono sempre di più di venire a Padova